Alessandra, in questa fase più contemplativa dell'altro, si è per fortuna fermata su una parte che io invece avrei voluto riprendere, sempre nel Cantico dei Cantici, perché questo libro è una storia d'amore, quello di far coincidere l'amore coniugale con la procreazione, cioè è vero, l'uno è per l'altro, ma ci possono essere anche accordi senza generazioni di e anche qui mi faceva notare una ragazza sensibilissima, una ragazza dell'animo molto trasparente, che non ha, ha solo riflettuto così su alcune parole, mi diceva, donna, ti sei mai accorto che nella parola amore le labbra sordine ad un merito, ad un impegno, ma l'amore non si è preveniente, sempre, lo dà, è gratuito, è operativo, e l'oplazione è questa radice qui di non aspettarsi di un incambio, come l'Eucaristia, è il dono totale di Gesù l'Eucaristia, purificando questo cuore da tensioni insane, brutali e svilenti dell'aspetto sessuale della vita, ma purificando soprattutto i pensieri, perché tira, ed è tremendo perché mi spaventa. Allo stesso tempo, ascoltavo l'altro giorno, noi celebriamo il fasciato e il tremante, bellissima questa cosa, il fasciato della mangiatoia e il tremante sulla croce morente, fascinanz e tremendo, sono due cose diverse, ma che trovano in questa assonanza etnologica un aspetto della nostra vita, quindi buon cammino di sposi e siate felici per il dono che ti orientate.